Il giro di Ciorria Il giro di Ciorria Il giro di Ciorria Marotta In avanti per Ciorria E c'è La rete Clamoroso Ascina la squadra come di consueto Il pallone a sinistra per Ciorria Prova a scappare Ciorria Salta Cardin Ciorria L'entra sul destro Non è sto piede Ma calcia bene C'è stata forse anche deviazione Una parte di Tumagalli Parte il cross di Sanchevicius Allontana Abelotti Poi Ciorria Caica al sinistro Il pallone che viene deviato Si impenna e finisce alto Sopra la traversa Deviazione Di un Un camendicino Per Ciorria Tenta di ripartire il Siena Ora il tentativo di Ciorria Di innescare Marotta Attenzione In area di rigore Si gira bene Marotta Il tentativo con il destro Bremen Dicevamo si è spostato Sulla sinistra Ma adesso è Steffè Sulla destra Per Ciorria Parte il tiro Alto di poco Ma si fa vedere di nuovo Da quelle parti Il Siena Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti